Ieri sera i carabinieri del Norm di Aprilia hanno appurato che un'autovettura di grossa cilindrata era stata raggiunta da tre colpi di arma da fuoco al parabrezza del vetro anteriore. Uno dei proiettili dopo aver perforato il vetro ha bucato il poggiatesta anteriore lato guida e anche il cofano anteriore, risultato segnato da un colpo di pistola. Inoltre i militari dell'arma hanno trovato all'altezza del pneumatico anteriore destro un'ogiva deformata dopo l'urto. L'autovettura è stata posta sotto sequestro, adesso si cerca di capire chi abbia commesso il gesto e soprattutto quale sia stato il movente al momento nessuna ipotesi esclusa. Intanto l'autovettura è stata posta sotto sequestro e sarà oggetto di ulteriori approfondimenti a condurre le indagini della sezione operativa del reparto territoriale carabinieri di Aprilia.